Ciao a tutti. Presumo che conosciate il gioco più difficile del mondo e che avete provato a giocarci, e che avrete almeno bestemmiato 50 volte per livello ma non importa. Oggi giocherò al gioco più facile del mondo. Esatto avete sentito bene. Finalmente potrete superare tutti i livelli di questo fottutissimo gioco e vantarvi di averlo completato. Come sapete già, io sono il quadratino rosso, devo evitare le palline blu, anche se non ci sono, devo prendere le palline gialle e che devo passare nelle aree verdi per passare i livelli. Ma non pensate che i colori rendano il gioco più simpatico, servono solo per dargli un po' di vivacità. Mentre sto parlando vedete che ho già superato due, scusate tre livelli x di dddd. Che vergogna un uomo che gioca al gioco più facile del mondo perché si è rotto i coglioni di perdere il gioco più difficile del mondo, io gli darei l'ergastolo. E tu che cazzo vuoi non vedi che sto giocando? Potresti distrarmi e farmi perdere. Ma come cazzo fai a perdere, se non c'è neanche un pallino blu in mezzo alle palle? Tu non distrarmi lo stesso, voglio vedere con i miei stessi occhi io che finisco il gioco. Quando lo finisco ti prometto che festeggeremo insieme a casa di Barack Obama, ci ubriacheremo e ci divertiremo un sacco. Come se ci fosse un secondo Natale. Tutti ricorderanno questo giorno. Gesù scenderà nel cielo per congratularsi con me per la mia impresa mai portata a termine da nessun essere mortale. Ma che cazzo stai dicendo? Mi stai spaventando? Ma vaffanculo stronzo. Sono riuscito a superare 8 livelli in solo un minuto, 43 secondi, 8 decimi, 2 centesimi e 5 millesimi di secondo. Questo sì che è un Guinness World Record. Resterò qualche secondo senza parlare, poiché non so cosa scrivere. E anche perché credo ci sia molta gente che sia rotta i maroni di sentire la mia voce di merda x di dddd. Sto quadratino di merda non riesce ad andare un po' più veloce? E' vero che è facile, ma già mi sto rompendo i coglioni di fare su e giù. Era meglio se mi mettevo a fare un sudoku. Ma che cazzo dico, io manco ci so giocare al sudoku. Che vergogna un uomo che non sa giocare al sudoku, io gli darei l'ergastolo. Il sudoku è più facile e divertente di questo gioco di merda in cui non fai un cazzo. Come fa un gioco pieno di numeri ad essere più facile di muovere un quadratino rosso e anche carino? Vai via sfigato di merda oggi, mi hai già ergastolato due volte. Ho un'idea. Ti sfido a perdere a questo gioco, e se perderai anche una sola vita ti bacerò i piedi. Accetto la sfida. Povero illuso, non sa che solo Chuck Norris è morto in questo gioco. Due volte. Tanto per citarlo, lo sapevi che per battere Chuck Norris basta spremergli sopra un cinese nero? Se non lo sapevi adesso lo sai xdddd. Mi sono rotto le palle, avanti veloce prego. 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 Come sarebbe a dire impossibile? Mi fai fare 29 livelli senza faticare e alla fine mi dici che è impossibile. Ma vai a cagare. Cambiano pure il colore dello sfondo tanto per far vedere che è un livello speciale ma in realtà è un livello come tutti. Eppure questo livello mi fa sentire così teso anche se so che è più facile del sudoku. Dai ci sono quasi, si ho finito il gioco, pepepepp, pepepp, pepeppi commento dell'ergastolo vieni che festeggiamo. Ho vinto la scommessa. Vabbè sti cazzi andiamo a casa di Barakko bama che facciamo casino, in quanto a questo ho finito.